Bazz Blog da Torino, siamo tornati in via Scarsellini per parlare questa volta non delle occupazioni abusive perché per fortuna attualmente il problema è stato risolto, ma di un altro tema, della riqualificazione di queste case popolari. Si è parlato un po' di mesi fa di questa situazione, il Comune e anche la Regione dicevano che dovevano esserci dei fondi per la riqualificazione, però ad oggi è tutto fermo. Cosa ne pensano qua le residenti? È che oltre al degrado visibile da chiunque c'è un discorso più importante che è proprio quello della pericolosità perché tutti i cornicioni sono pericolanti, sono già caduti, hanno già causato danni alle auto parcheggiate e poi insomma i balconi, le scale, i cornicioni dei balconi sono insomma qui c'è da mettere mano e ad esempio le persone che abitano gli ultimi piani mi hanno detto di ricordare che non hanno più una copertura, adesso io non vado nello specifico perché non me ne intendo, però che riparava loro dal freddo e dal caldo. Quindi manca la coibentazione che tra l'altro potrebbe rientrare nel piano 110 che era previsto, ricordiamo, ma che ad oggi è tutto bloccato anche per i fondi regionali. Altri che vogliono dire qualcosa? Dobbiamo dire tutti la stessa cosa, è tutto molto precario, sempre tante promesse, danni, però non concludono niente, non hanno mai fatto niente per queste case. Sì, perché tra l'altro qua si parla proprio di sicurezza, vediamo proprio delle persiane che mancano, sono state tolte perché erano pericolanti, vero? Sì, certo, ma ce ne sono alcune che lo sono comunque e quindi... E poi abbiamo visto dei cantieri perché lì erano caduti dei calcinacci, cos'è? Sì, erano caduti dei calcinacci sull'auto di una signora, però hanno messo un nastro, io non ho visto nessuno, hanno tolto sto nastro e i cornicioni sono sempre uguali. Cioè, quindi lì le auto vedo che tutti hanno pensato bene di non posteggiarle più sotto i balconi, giustamente, però non è stato fatto nessun intervento. No, ma questo, vabbè, è una cosa che riguarda già più regione e anche i fondi che attualmente non sono praticamente, sono bloccati. Questo è un problema non solo delle case popolari, ma anche di altre persone che attualmente, anche privati, quindi non solo case popolari. Però il discorso è anche un altro. Parliamo sempre di case popolari. Negli interni qua abbiamo visto che le case sono state occupate abusivamente perché erano vuote le abitazioni. Vuote perché? Perché non agibili. Allora, addirittura, qualche tempo fa è venuta fuori una proposta. Chi può permetterselo, che però ovviamente nella lista per avere la casa popolare poteva ristrutturarla a sue spese. Cosa che però, uno dice, sì, ma se uno è in lista per le case popolari non ha una disponibilità economica molto spesso per poter ristrutturare una casa. E quindi, insomma, queste proposte da parte dei cittadini stridono un po', giusto? Perché non affittano anche a questa gente che sta aspettando una casa? Non capisco, tutti questi alloggi che abbiamo vuoti e il riscaldamento adesso d'inverno, chi lo paga? Perché paghiamo tutto noi poi di questi alloggi vuoti. Tra l'altro parliamo di ambiente. Qua mancano ancora le termovalvole con il teleriscaldamento. Sì, non siamo a norma perché le termovalvole non ci sono. Abbiamo comunque dei costi ormai a un livello tale da casa privata perché questo cortile tenuto come tenuto ci costa un botto. Sì, abbiamo poi visto anche là che ci sono cumuli di spazzatura. Spesso e volentieri sono stati fatti intervenire. Insomma, l'AMIAT è dovuta intervenire perché comunque c'è gente che scarica lì e non è neanche residente. Insomma, diciamo che la cura delle case popolari a Torino sta venendo molto meno in questi anni. E purtroppo queste case, vogliamo ricordarlo, che sono del periodo delle case della Fiat, del grande periodo della Fiat perché queste erano anni 40. E dovrebbero comunque avere la priorità perché, come diciamo, a parte il discorso estetico che per carità farebbe piacere stare nell'ordine, nel pulito, come erano gli inizi, ma è un discorso proprio di incolumità delle persone perché tutti, a volte sei distratto, passi sotto un balcone e non ci pensi e i bambini che giocano in cortile, le persone che in maggioranza sono persone, me comprese, anziane, quindi c'è un grosso rischio. Ecco, perché qui dovrebbero dare una sorta di priorità, di urgenza a questo problema. Il problema va affrontato. Anche perché abbiamo visto cantieri iniziati ma fermi, bloccati. Dopo facciamo un giro con delle immagini per vedere la situazione. Poi va bene, parliamo poi dei portoncini rotti, i nottolini rotti, le buche delle lettere, le buche, però lì... Una diversa dall'altra. Sì, quello però era anche, diciamo, nel periodo dell'occupazione abusive. Però quando c'è un vento forte, Federica, i vetri ormai obsoleti delle finestre e delle scale sono pericolanti. Già tante volte sono stati rotti dalla forza del vento. Anche lì è un pericolo. Quindi si parla di sicurezza alla fine. E siccome appunto queste case risalgono gli anni 40, erano le case degli operai della Fiat. Ricordiamolo, le persone che arrivavano dal sud per venire qua a lavorare e avevano la possibilità di abitare in queste case. Poi, negli anni, queste case sono state, diciamo così, donate alla città, quindi al comune di Torino, e sono diventate le case popolari. Qua, da via Scarsellini, insomma, abbiamo fatto un po' il quadro della situazione, BuzzVlog da Torino. A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti.